Ciao a tutti, siamo qui insieme a Stefano e partita finita in parità, direi veridata, perché entrabbe le squadre lo portavano bene, equilibrate, pareggio, non c'è stato il gol della vittima. Sì, è stata una bella partita, difficile da giocare, noi siamo in una situazione che si fica molto deficitaria, abbiamo avuto un po' di problemi iniziano, un po' di defezioni, però non può perdurci. Peccato per l'espulsione alla fine, però è gioco, ci stavo. E intanto vi diamo questo volo da 50 euro, con i Re-Roll, che possono finciare l'inizio del gol, così potete acquistare qualsiasi piatto. Perfetto, grazie. Speriamo di portare a casa i tre punti. Speriamo, però a voi va.